oggi faremo vedere la preparazione del carciofo a insalata essenziale è la qualità della materia prima si prepara un trito di aglio e mentuccia schiacciando l'aglio prima e poi unendolo alla mentuccia battuta al cortello viene messo in un recipiente viene unito a questo trito di mentuccia che è stato precedentemente fatto insieme a succo di limone e olio a guarnire il piatto qualche scaglia di parmigiano e un po di olio a crudo e il piatto è pronto